Ciao ragazzi! Oggi vi dico quante ripetizioni fare ad allenamento. Capiamo per quale motivo bisogna scegliere un certo range di ripetizioni piuttosto che un altro e come strutturare un allenamento per ottenere il nostro obiettivo. Innanzitutto ci sono delle credenze, dei miti che dicono che le basse ripetizioni fanno solamente forza, le ripetizioni medie fanno muscolazione, le ripetizioni alte fanno definizione. È vero questo? Ni! Ni! In parte vero, in parte no. Vediamo perché. Innanzitutto si è dimostrato che a parità di volume, indifferentemente dal quantitativo di ripetizioni che si utilizzano, si ottiene lo stesso stimolo ipertrofico. Questo è uno studio che ha fatto dottor Brad Schoenfeld che ha equiparato il volume di un gruppo che ha utilizzato serie da tre ripetizioni per allenarsi per l'intero arco dello studio, mentre l'altro ha utilizzato delle ripetizioni più in un range ipertrofico, diciamo, classico di muscolazione, quindi 8-12 ripetizioni, a fine dello studio hanno avuto lo stesso incremento di massa muscolare. Quindi, indifferentemente dal fatto che fare un intero programma di allenamento solo con delle triple non sia probabilmente l'approccio più intelligente, sappiamo ora che il driver principale della massa muscolare è il volume di allenamento. Messo questo da parte, come ripartiamo il volume in maniera più coerente ed efficace? Fare tutte serie da tre estremamente pesanti probabilmente non è molto intelligente come allenamento. Ora dobbiamo decidere qual è il nostro focus principale, che può essere la forza o la massa e ripartire coerentemente tra tutti i range di ripetizioni il nostro volume. Perché tra tutti? Ultimamente la letteratura scientifica, le ricerche, le prove sul campo sembrano dimostrare che quando si va a stimolare contemporaneamente in tutti i rep range il muscolo si ha una crescita ottimale sia in quanto a forza sia in quanto a massa muscolare. Si ottimizza la crescita di tutte le tipologie di fibra muscolare che sono presenti nei nostri muscoli. E questo è una tipologia di periodizzazione che si chiama ODUP, Daily Ondulated Periodization, oppure Concurrent Periodization, la periodizzazione ondulata giornaliera o concorrente. Come si pianifica utilizzando questa periodizzazione un allenamento? Si avranno vari allenamenti nell'arco della settimana che vanno ad avere come target un certo rep range, oppure ci saranno per ogni gruppo muscolare all'interno dello stesso allenamento utilizzati tutti i vari rep range. Se il nostro obiettivo principale la forza probabilmente ci conviene avere la maggior parte, il 50-75% del nostro volume dovuto da serie a basse ripetizioni, quindi 1-5 ripetizioni e il restante 25% o 15% dovuto alle serie di muscolazione che sono dalle 6 alle 12 ripetizioni canonicamente e le serie di pompaggio stress metabolico che vanno dalle 12 alle 15 ripetizioni. Viceversa se il nostro obiettivo principale è quello di mettere su massa muscolare probabilmente ci conviene concentrarci maggiormente nella fascia media, quindi andare ad allenare principalmente tra le 6 e le 12 ripetizioni il nostro muscolo avendo anche un 25-15% del nostro volume dovuto a ripetizioni che vanno dalle 1 alle 5 e dalle 12 alle 15. Questo sembra il metodo più intelligente. Vediamo cosa piace fare a me. A me piace alternare periodi con focus principale nella massa, focus principale nella forza, in modo da avere dei periodi in cui si ha uno stress metabolico maggiore, un focus maggiore per lo stress metabolico, seguiti subito dopo da periodi in cui si ha un focus maggiore, viceversa per le tensioni muscolari importanti. Questo darà al fisico stimoli differenti, entrambi che generano ipertrofia e sufficientemente differenti se li alterniamo coerentemente nel tempo permetteranno di adattarci il meno possibile e continuare sempre a crescere. Spero vi sia piaciuto questo video, ho cercato di tenerlo il più breve possibile. Se vi è piaciuto un bel mi piace, condividetelo con chi credete possa interessare e vi dico una cosa, per voi che siete rimasti fino a qua, fino all'ultimo, quindi siete fedelissimi. Io stanotte alle 3 del mattino parto e vado a lavorare in Irlanda per un paio di settimane, quindi perdonatemi se non sarò altrettanto frequente come ora nel caricare dei contenuti qui sul canale e su Facebook e su Instagram. Sappiate che sono su a lavorare, faccio del mio meglio e se riesco, se c'è qualcosa di interessante da farvi vedere, provo a vloggare un pochino la mia esperienza su in Irlanda, anche se ormai i vlog non li faccio più. Ciao ragazzi!